Steph, che fai oggi? Sto meditando, Fere Perché stai meditando? Ti vuoi rilassare? Ti vuoi rilassare? No, allora, mi sto concentrando perché questo oggi dovrò diventare il miglior copiatore di qualunque verifica di qualunque scuola di questo mondo, Fere Non è una bella cosa da dire, eh, non è bella Perché, Fere, è una professione questa No E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono te, perché si chiama Tom l'imbraglione E torniamo qui su questo fantastico giochino, dato che anche a voi è piaciuto tanto, quindi abbiamo deciso di farci un secondo episodio Esattamente, l'avete apprezzato parecchio, quindi mi ho detto, dai, facciamo un altro video, dato che c'è la possibilità Allora, mi sono, diciamo, fatto un pochettino di livelli e siamo arrivati al punto perfetto In cui manca un solo livello per sbloccare un nuovo potere E sono un potere che ti piace tanto, Fere, quindi preparati Uh, davvero? Non te lo spoilerò, non te lo spoilerò, ma ti piacerà un sacco Ok Allora, livello 24, è diventata un po' più complicata la lezione di scuola Concentrazione, quindi sfrutta le tue tecniche di meditazione per riuscire a superare questo livello Ok, vado, allora, è troppo lento Lui che si arrabbia subito, ma almeno è veloce Ok, uno fatto Ok, ottimo Lei è veloce, torniamo subito a posto Ok, lui fa la fintina e ogni tanto torna anche indietro Ah, ho capito Quindi devo stare attentissimo Ho capito A non partire subito, perché ho capito E poi guarda questo Puff, si teletrasporta in un altro posto Oh mio Dio Puff, e si teletrasporta in un altro posto Ma dai, è pieno di alunni stranissimi qua Questa è una scuola davvero strana Ok, se ne vuole andare, devo andare almeno a toccarlo E poi tornare, vedi? Oh mamma mia Prendo anche il potere E vado da lui No, ancora no, ancora no Allora lei Uno Due Ha finito E basta, ok Lui, rischio Oh, che rischio che hai preso Devo andare Ok Oh mamma mia Ok Allora, vediamo dove si teletrasporta Qua ce la posso fare Oh, perfetto Mi prendo il superpotere Surrutto lei velocissimo Uno Due Andiamo anche da lui Ho notato anche che per caricare la barra fino alla B Ci vuole molto di più È diventato molto più difficile Meno male che l'hai notato È davvero difficilissimo Però questo che si teletrasporta È scomodo Ma vale per due Non so se l'hai notato Ho notato Sì, ho notato che appare per due Quanto meno ne vale la pena Uh, mi dà anche il potere Perfetto Facciamo anche lui Aiuto Ok Facciamo lei Uno Due Torniamo da lui anche se si arrabbia Scappiamo di nuovo verso qua Mamma mia Clicchiamo lui anche se tanto non posso copiare Dai, ricaricatevi veloci Nel mentre faccio di nuovo lui È l'unica cosa che posso fare Ok, ok Adesso lui Opla Ok Ottimo Ok Ti è apparsa anche l'invisibilità Lo so però Anche se manca pochissimo No, non ce la facciamo Uuuu Non ce la faccio a fare a più Però è comunque un A Quindi va bene Un A va benissimo Anzi, guarda, ti giuro Ho avuto paura che rimanessimo sulla B Perché è diventato davvero difficile Davvero davvero difficile Mi sono allenato parecchio È super difficile Però quantomeno ce la sto facendo Allora Abbiamo un nuovo potere E spero che sia qualcosa di davvero utile Perché altrimenti qua Ti dico Non è che abbiamo piede Allora, per favore Le pubblicità in questo momento Non ci interessano Guarda che cos'è Fere Ok Che cos'è? Aspetta Che compaiono un sacco di cose Un sacco di cose Uuuu Opla Cioè ma abbiamo un cagnolino Adesso che distrae l'insegnante? Sì Buster, no Che bello Esattamente così Allora, vai Proviamo ad utilizzarlo subito Voglio provarlo subito La nuova classe, secondo te, quando la sblocchiamo? Devi fare due È difficile Ci vuole un po', ci vuole un po' Allora Giusto per sapere Ah, mi stai distraendo Mi stai distraendo Facciamo così Così Questo qua mi sa che si arrabbia subito Però è veloce Esatto Bene, aspetta che voglio vedere cosa fa Vai via, vai via, vai via Ok L'hai vista? È molto più veloce rispetto agli altri a guardare Ma guarda in un solo punto Ho notato Quindi interessante Ok, facciamole Ma no, troppo lenta No, lento, è lento, è lento Ok Ok, lui che si arrabbia Aspetta che dobbiamo sfruttarlo Perfetto Dopodiché andiamo qua Sono tutti lentissimi E il cane per ora non ci è stato proposto Aiuto Esatto Quindi penso che sia un potere che appare Eccolo Eccolo Vai Guardalo Guardalo Che carino Balla pure lui Balla pure lui Questa è la cosa interessante È dura anche relativamente poco Esatto, esatto Oh, è difficilissimo Perché probabilmente a differenza del compagno che balla Lo puoi usare più e più volte Mentre invece questo è limitato Abbiamo dei compagni terribili, Fede Sono tutti abbastanza lenti Che si arrabbiano subito È anche giusto che un compagno non ti faccia copiare No No Rifacciamo lui che è qua Dimmi che ne posso fare almeno due Devo scappare Non mi interessa un secondo se ne vuole andare Corro Ok Oh, sei riuscito a fermarlo Oh, non riesco a fare neanche la B Se continuiamo così, eh No, notato, notato È incredibile Allora, prendo il cane Andiamo Da lui Ok, copia, copia Torniamo da lui Devo andare a bloccare lui Dobbiamo andare da lei Ah Veloce, 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 veloce B presa Ok, ok, ok E la A no? No Ok No, ma va bene anche la B Guarda, per com'era questa lezione Era davvero complicata Ah Cioè, mette un'ansia assurda sto gioco Sinceramente Lo dico io Lo dico io Dato che tu non lo vuoi dire Quel cane fa schifo È davvero inutile Avrei preferito durare un pelino di più Un bel po' di più E poi è inutile distrarre il professore Se tanto non c'è direttamente nessuno di buona da cui copiare Lo so, lo so Sono capitati alunni molto complicati Quindi era difficile riuscire a copiare da loro, insomma Mi avevi chiesto Come facciamo a sbloccare la nuova classe A 30 abbiamo il primo capello Ma invece che uno ce ne servono due E il secondo è a 35 Guarda adesso Che bello questa classe Sì, fare Abbiamo dei cerve... Saranno dei cervelloni, allora Fammi vedere No, aspetta Che battutaccia Aspetta, aspetta Vediamo Come funziona Ah, per due Dice per due, però è abbastanza lento E si arrabbia parecchio Arrabbia molto in fretta Facciamo così Perfetto Adesso i cervelloni si arrabbiano Non mi sembra che faccia qualcosa di troppo strano Troppo particolare Non li facciamo arrabbiare così No, 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 no Ok Mamma mia, mamma mia Lui è l'unico tranquillo Guarda, è felicissimo Sì, copia Tranquillo, Steph Puoi copiare quanto vuoi Finché non mi arrabbio però Esatto Ok Allora, vai a prendere il potere Sì, faccio potere Dopodiché cervellone Vai, vai, vai Sì, ma perché ha rifatto? Non lo so perché Non è che me ne sono accorto L'ha fatto troppo veloce Uno Due Vado via Lui controlla lì Andiamo qua Facciamo velocissimo lui E mi sa che non riesco a fare niente la B Ma dai Allora Per il tempo che ti dà Sì Ci sono davvero davvero pochi alunni Cioè erano solo in tre Come fai a copiare? Come fai? Difficilissimo sto livello Eh sì, è difficilissimo Bene, qua abbiamo bisogno di spendere un po' di soldi Del gioco per migliorarci Allora Che potere miglioreresti? Non lo so A me piace molto Super Tom Sì, a me piace Super Tom E anche l'invisibilità Mi piacciono parecchio Quindi investirei su uno di due Ok, dai Andiamo di Super Tom E appena torniamo a 5.000 Andiamo di invisibilità Ok, ottimo Allora Su special cosa abbiamo? No, ok Cose da shoppare brutalmente Mamma mia Con i prezzi qui E invece qua a livello di vestito Tipo questo qua Oh, guarda anche l'altro Quello dopo Oh, che bello Peccato di non avere i soldi Però davvero sono bellissimi Sono bellissimi Questo è quello che vorrei di più Questo è il migliore Però guarda quanto costa Bellissimo Sì E invece guarda Qua abbiamo tutti i vari alunni E credo che ti faccia bene o male capire appunto Se sono più o meno veloci per copiare E qua ci sono i vari professori E guarda quanti ne mancano ancora Sì, sono tante Beh, certo Ancora dobbiamo cambiare classe Dobbiamo fare ancora tante cose Infatti fammi andare al volo a vedere Che classe è la terza Perché Ok Quanto meno sono curioso Vediamo Allora, biologia Storia Arte Bella E ne chiede due Come pensavo Sì, sì Ok No, no, no Non rischiamo Via, 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 via Non rischiare, non rischiare, non rischiare Ok, faccio due di lei Ta Ta Vado dal due da lei Dato che sta scomparendo Anche se non potevo Faccio lui anche se si arrabbia No, no, no Allora, dal cervello è difficilissimo andare Sì, però Cioè, a raggiungere fino a... Vale doppio Voglio quell'invisibilità Voglio quell'invisibilità Ok, presa Ok, vai, 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 vai Perfetto Così posso restare qua Poi vado anche da lui Se non urla Mmm, ha urlato Aiuto Graziato Cosa ti arrabbi così tanto, eh? Per pochissimo Opla Opla Forse sto rischiando Forse sto rischiando Ma sono pronto a tornare nel caso No, faccio Uuuu Aiuto Però siamo messi bene Sto andando bene Sto andando bene Non urlare Bravo Sfruttiamo Lady Brutto Uno Due No, torniamo qua No, con calma Ce la facciamo Ce la facciamo Uno, tre, due, uno Sì, ma voglio almeno un A Voglio almeno un A Lo so, lo so Allora, quel Tom Dovrei riuscire a prenderlo Fare così Fare così Tornare qua Aspettare che guardi Doi che prendo anche la più Ok, per almeno Per pochissimo Non c'eravamo per almeno A A, è ottimo A, è ottimo Ce l'abbiamo fatta Vedi, allora era particolarmente difficile Quel livello Sì, sì, assolutamente Ok, io mi stavo preoccupando parecchio Però per fortuna Era quel livello Sì, tra l'altro c'erano pochi alunni C'erano pochi alunni Ma che gioco ci propone Fere, ma è il giorno dell'esame Fere, lo sai benissimo Che quando c'è l'esame Ce la faremo Ce la faremo Il professe di controllo Non tutti i bigliettini possibili Immaginabili Quindi devo E infatti Cioè, negli esami Sono i momenti in cui si copia di più Ecco qua Cioè, però l'abbiamo sentito dire Allora 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 Dai Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ok, ok Oh mamma mia Ma dove ci ha portato questo pazzo? Ci ha portato nel deserto Per evitare di copiare Cioè, guarda la barra Fere, guarda bene la barra Ti stavo per dire la stessa cosa Cioè, quello se ne sta già andando Non te ne andai Stavo a scappare Ha ragione Ha ragione Ha pre-iniziato l'esame Lo so che sei qui nel deserto E ti senti un po' a disagio Ma stai qui Perché noi dobbiamo copiare No No, ma è da pazzi sto livello Che rischio Ok, di nuovo E smetti l'amico Calvati No, devo anche scappare Cioè, ho tre che si arrabbiano E quello lì del cervello Che se ne vuole andare Tutto il tempo E che si arrabbia facilmente Guarda Ma no Guarda, devi smetterla No Ti odio Però adesso me lo becco il suo per due Adesso me lo becco Eeeh Voglio anche questo Rischio Uh Ok, ottimo Sì, sì, guarda lì professore Guarda lì Opla Grazie Grazie Mamma mia come si arrabbia No In questo sarebbe utilissimo Quello degli occhi Che li fa innamorare Sì, esatto Come potere Però non mi compare nulla Perché sono sfigato Ta Ta Ok, ce l'ho fatta Oh mamma Mi ha avuto pora Che se ne andasse Lo so Uno Eeeh Tre Vai, vai E vabbè No, no, no Calmo, calmo Ok Allora facciamo Uno Eeeh Due Torniamo qua Adesso andiamo dal per due Velocissimo Ce la faccio? Ah Però ce la faccio? No, non ce la fai Si è flipato Hai visto? Guarda Che sta succedendo? Totalmente baccato Però dovrei aver preso B Ma cosa è successo? Non ho capito nulla Risultavo dal biondo Era come se fossi al banco Vabbè, vabbè Bug della vita L'importante è che abbiamo Fuso la B Però ho preso la B Era difficilissimo Questo livello Sì, no, assolutamente Sto gioco è impazzito Guarda Eh, sì È iniziato abbastanza semplice Però poi adesso è diventato Davvero per esperti De copiare È un inferno È diventato un inferno È diventato un inferno Mamma mia Cioè mi ha messo ansia Solo a vederti Figurati a giocarlo Ringrazio che non ci hai giocato Però ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta E adesso dobbiamo soltanto Arrivare a livello 35 Non si sa bene come Per sbloccare un'altra classe Comunque direi che ci possiamo Fermare così per questo video Fateci sapere se appunto Vorreste vedere noi Che direttamente Abbiamo sblocato anche questo esame Quindi andiamo direttamente Ho fatto chiarire tutto A fare la classe di arte Sì Oppure se direttamente Ci fermiamo così con il gioco Perché tanto non c'è bisogno Di fare tutto il gioco No, certo Divertente Di episodi singoli Quindi fateci sapere un po' Se lo vorreste di vedere In ogni caso Quindi sondaggino Commenti, likes E ci fermiamo così Perché se vi riesce così Lasciateci un bel like E se la prima volta che avete Il nostro video Potete considerare La vita di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 a tutti Ciao a tutti